Scopa, paletta, sacchi e cesto alla mano. Lo aveva annunciato ieri il responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Favara, il signor Giuseppe Pullara, e stamane è stato fatto. Ripulita da rifiuti ad erbacce via Petrogerni, zona Macello, la stessa che nei giorni scorsi, è stata segnalata dai residenti del posto tramite le telecamere e microfoni di Sicilia TV Notiziario per denunciarne la situazione di degrado. Due giorni fa, dunque, la segnalazione dei cittadini. Tra i problemi di via Petrogerni, una rottura di una tubatura per la quale passano i refui che provocava lo sversamento in strada dei liquami, con conseguenti maleodori e rischi di natura sanitaria. Oltre a questo, sul posto era stata segnalata anche la crescita rigogliosa di erbacce, l'abbandono di rifiuti e un dissesto del manto stradale con buche pericolose per auto e passanti. Immediato dopo la denuncia fatta dai cittadini attraverso Sicilia TV, l'intervento di Girgenti Acque, che ieri ha risolto il problema fognario. Sempre nella scorsa giornata il signor Giuseppe Pullara ci aveva anche assicurato un suo pronto intervento per la giornata di oggi e così, infatti, è stato. Operai sono stati inviati sul posto per ripristinare il decoro urbano dell'area, dimostrando, ancora una volta, la disponibilità del signor Pullara nello svolgere con costanza un servizio utile e indispensabile per la cittadinanza. Ancora ben poche novità, invece, sul versante buche stradali, per le quali la competenza intervenire spetta all'amministrazione comunale. Interpellato in merito, l'assessore ai lavori pubblici a Modeonicotra aveva risposto che stanno lavorando e predisponendo delle delibere per fare la manutenzione delle strade. Ma ad oggi nulla di concreto è tangibile, purtroppo. Ad ogni modo, i residenti di Via Petrogermi possono tirare già un mezzo sospiro di sollievo per i problemi che sono stati risolti prima dell'avvento del caldo estivo, durante il quale insetti e cattivi odori avrebbero trovato un habitat ideale tra i liquami, erbacce e rifiuti abbandonati sul posto. Un grazie va quindi alla società Girgentiacque e al responsabile del servizio rifiuti Giuseppe Pullara per il loro pronto e tempestivo intervento.